Venerdì 6 dicembre alla Casa delle Culture c'è questo concerto che è stato organizzato per l'appunto dal Vox Cordis che è il nostro coro di riferimento nella Scuola Superiore per Direttore di Coro nel corso della quale si esibiranno tre cori giovanili e poi verrà fatta, anzi prima del concerto alle ore 18, verrà fatta la presentazione del volume Polifonie che la fondazione ha pubblicato quest'anno è una ripresa di una pubblicazione che era stata interrotta per alcuni anni e che riprendiamo da quest'anno e ogni anno avrà firme importanti della musicologia l'importanza della rivista è che viene stampata sia in italiano che in inglese e quindi porta la conoscenza di un argomento musicologico di alto livello e dell'attività della fondazione a tutti gli addetti ai lavori e a tutti i coristi che vengono per il polifonico si presenta con una veste grazie all'interessamento del Presidente Pedini e del Direttore Caraba si presenta con una veste più che dignitosa e avrà una cadenza annuale questo è il primo numero ufficiale del 2013 la rivista verrà non solo presentata nel corso del concerto ma verrà fatto omaggio della rivista a tutti i presenti, a tutti gli intervenuti al concerto